Il progetto CUSIO 2030 mira a tutelare e valorizzare la biodiversità acquatica del lago d'Orta, reintroducendo alcune specie autoctone di pesci, trota marmorata, pigo, luccio italico e agone, e contribuendo allo studio e al contrasto delle specie aliene invasive, come il gambero della Louisiana. Il progetto è promosso dalla provincia di Novara in collaborazione con il CNR Istituto di Ricerca sulle Acque di Verbania. News 24, la tua nuova tv locale.